Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca, ennesimo fatto di sangue al confine fra Abruzzo e Molise la scorsa notte nelle campagne tra San Salvo e Montenero di Bisace. È stato trovato infatti il cadavere di un uomo, un romeno di 46 anni, identificato come Ion Situ. È stato fermato dai carabinieri un sospettato, si tratta di un connazionale della vittima, ma sull'accaduto andiamo a vedere il servizio di Manuela Iorio. Una serata passata a bere, poi la lite che si è trascinata in strada è proseguita fino a un casolare abbandonato dove è degenerata in un pestaggio. Ad avere la peggio, Ion Sotu, un romeno di 46 anni senza fissa dimora che è stato massacrato di botte. Pugni, calci e poi giù con le bastonate che sono risultate letali. L'uomo è morto sotto i colpi incessanti che si sono fermati solo quando ormai era tardi e nel casolare di Contrada Padula a Montenero di Bisaccia è calato il silenzio. L'omicida potrebbe essere un connazionale di 43 anni. Lo hanno trovato i carabinieri che vagava a piedi per le campagne. Ho ucciso un mio amico, sembra che farfugliasse disperato. I carabinieri erano stati allertati da alcuni residenti spaventati dalle urla dei due che litigavano in strada. Chiamate sono arrivate anche al 112 di San Salvo, la zona infatti è proprio a ridosso del confine con l'Abruzzo. Il 43enne, ancora sbronzo, avrebbe confessato l'omicidio e portato lui stesso poi i carabinieri nel casolare che erano soliti usare come ricovero. Quando ormai era quasi mezzanotte i militari, qui al secondo piano, hanno trovato in una pozza di sangue il corpo di Yon Sotu con la testa fracassata. Insomma, la chiara scena di un omicidio. Vicino al cadavere il bastone insanguinato, usato probabilmente per picchiare l'amico. Il connazionale è stato sottoposto a fermo e portato in caserma a Montenero, dove è stato ascoltato per tutta la notte e tutta la mattina. Un fermo che però non è stato ancora trasformato in arresto. Si aspettano conferme dalle impronte trovate sul bastone. I carabinieri poi non escludono la presenza di altre persone o di complici. Stanno cercando conferme alla dinamica ipotizzata e probabilmente di raccogliere una confessione che forse una volta passata la sbornia non è stata più confermata. Ancora cronaca, un volto e un nome. Il rapinatore che ieri sera ha tentato di rapinare il supermercato Todis di San Buceto è stato arrestato poco dopo in flagranza dai carabinieri della compagnia di Pescara. Alfredo Primante. Ad incastrarlo sono state le telecamere di videosorveglianza che mostrano chiaramente il tentativo di rapina. Anche grazie all'ausilio di queste immagini i carabinieri di Pescara hanno arrestato un 35enne di Lanciano accusato di tentata rapina al supermercato Todis di Viale Amendola a San Buceto in provincia di Chieti. L'uomo avvolto scoperto ed armato di taglierino in prossimità della chiusura del negozio verso le 19 ha minacciato la cassiera per farsi consegnare il denaro provento della giornata. La ragazza però coraggiosamente si è rifiutata di eseguire quanto richiesto dal malvivente che visto sfumare il colpo si è dato alla fuga a mani vuote. Particolare il modus operandi. Il 35enne ha parcheggiato l'auto davanti l'esercizio commerciale ed incurante delle telecamere a volto scoperto è entrato nel supermercato arma in pugno. Assieme alle immagini delle telecamere a circuito chiuso fondamentale è stata la testimonianza della cassiera che ha descritto sia la persona che l'auto con la quale ha tentato il colpo. Le ricerche sono scattate immediatamente nel giro di un paio d'ore. L'uomo è stato trovato nel parcheggio del Lidl di Via Tirino a Pescara. Fermato e perquisito è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina, soldi incontanti di piccolo taglio e un taglierino con lama aperta occultato nel vano portaoggetti dello sportello lato guida. L'uomo ormai scoperto ha ammesso subito ai militari le proprie responsabilità e dunque è stato arrestato e portato nel carcere di San Donato. A Coracronaca la forestale di Ortona ha sequestrato il depuratore comunale di Arielli, paese in provincia di Chieti e denunciato tre persone per lo scarico non autorizzato di acque reflue nel fosso rifago affluente del torrente Arielli. Il sequestro e le denunce sono scattate in seguito alle analisi svolte in collaborazione con i tecnici dell'Arta di Chieti nel corso di un'attività di controllo delle acque di scarico del comprensorio ortonese. E lasciamo la cronaca, parliamo di politica nella giunta del regolamento del Consiglio regionale, opposizione di centrodestra in maggioranza vicina ad un accordo sulla contestata norma che consente alla giunta regionale di mettere la fiducia sui provvedimenti ritenuti urgenti. Resta però forte l'opposizione del Movimento 5 Stelle. Prove di dialogo e accordo vicino in giunta per il regolamento sulla cosiddetta legge Bavaglio ammazza ostruzionismo a seconda dei punti di vista. Opposizione di centrodestra e consiglieri di maggioranza, ad eccezione dunque del Movimento 5 Stelle, hanno infatti sottoscritto una proposta di modifica alla contestata norma firma del Consigliere del Partito Democratico Camillo D'Alessandro che introduce la possibilità accordata alla giunta regionale di dichiarare urgente una legge cancellando tutti gli emendamenti al fine di contingentare i tempi di approvazione. Con le nuove modifiche concordate, la legge tagliola non si potrà infatti applicare su norme relative a legge elettorale, statuto regionale e funzionamento del Consiglio. Per i progetti di leggi in materia sanitaria e politica e della salute, ciascun consigliere potrà poi discutere non più di 5 emendamenti a testa. Su tutto il resto, invece, la giunta potrà applicare la tagliola, compresa la legge di bilancio, le cui approvazioni hanno abituato gli abruzzesi negli anni a maratoni notturni, istruzionismi immemorabili e indecenti sveltine e notturni mercanteggiamenti. L'accordo si è trovato sulla proposta originaria e credo, firmata poi dalla maggior parte dell'opposizione, manca solamente i 5 Stelle che non ha firmato questa proposta e credo che sia una proposta giusta. Sicuramente oggi credo che porteremo a casa in commissione la votazione. Noi, grazie al nostro senso di responsabilità, abbiamo promosso questa iniziativa di mediazione che è ancora tuttora in trattativa nella giunta per il regolamento, però l'abbiamo fatta noi come promotori, ha visto l'adesione già di più di 24 consiglieri e quindi insomma ci appelliamo ancora una volta al senso di responsabilità. Restano contrarissimi, come detto, i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Sono modifiche minime, spiega il vicepresidente della giunta del regolamento Riccardo Mercante. Il bavaglio reste come? Perché la giunta potrà decidere su tante leggi importanti di cancellare il diritto dell'opposizione a presentare anche emendamenti migliorativi. E dall'Aquila ci spostiamo a Pescara, un clima da stadio. Così il presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Antonio Blasioli, dopo la decisione di rinviare il Consiglio Comunale di ieri. Questa mattina Blasioli ha incontrato il vice prefetto del capoluogo adriatico, Paola Iaci. Presidente Blasioli ieri ha parlato di clima da stadio in Consiglio Comunale e poi ha rinviato la seduta, proprio per quello che stava accadendo, prendendosi i rimbrotti dell'opposizione. Cosa risponde? Clima da stadio sicuramente sì. Diciamo che il Consiglio Comunale di ieri non è stata una delle più belle pagine dei Consigli Comunali di Pescara, dove c'è una parte, l'opposizione, che dopo 88 anni di funzionamento di questo Consiglio Comunale pretende di stravolgere le regole e di stare in un'aula consigliare, nell'aula consigliare più importante della città e forse con un po' di ambizione della Regione Abruzzo, come si sta in una curva di uno stadio. Centrodestra, tra l'altro, si appella all'articolo 24 del regolamento del Comune di Pescara che vieterebbe, usiamo il condizionale, la revoca del Consiglio. Il Presidente cosa risponde? Che bisogna approfondire bene, che prima del regolamento c'è uno statuto, che è la norma che è a monte, che mi consente quello che è stato fatto ieri e quello che è stato fatto ieri è stato comunicato ai consiglieri presenti nella conferenza di Capogruppo nella giornata di ieri, dove abbiamo comunicato in maniera esplicita che nel caso in cui fosse persistita questa situazione non si sarebbero tenuti più i Consigli Comunali fino a che questa Presidenza, il Presidente in particolare, non fosse stato ricevuto dal Prefetto, cosa che è avvenuta questa mattina. Da parte del Vice Prefetto Vicari invece ho avuto l'invito a perseguire nella linea, ritenendo che ai consiglieri vada applicata la stessa norma che riguarda il comportamento del pubblico. Del resto non vedo perché non ci siano nel regolamento del Consiglio Comunale dei divieti che riguardano il pubblico presente in Aula e questi divieti invece non riguardano i consiglieri che invece sono rappresentanti di quel pubblico e che forse più di quel pubblico dovrebbero tenere un atteggiamento consono verso l'Aula del Consiglio Comunale. Parliamo ancora di amministrazioni locali, da Pescara andiamo ad Ortona perché dopo il terzo rimpasto di giunta il Sindaco Vincenzo Dottavio ha ufficializzato questa mattina le deleghe assegnate a ciascun assessore. Francesca Licenziato si occuperà delle politiche sociali, Luigi Menicucci del bilancio, Tommaso Danchini ha invece ricevuto la delega al turismo mentre Simonetta Schiazza sarà l'assessore allo sport e al commercio. I lavori pubblici restano invece in capo all'assessore Domenico De Jure. Tutte le materie non assegnate restano invece al Sindaco Dottavio che ha espresso la volontà di farsi susportare anche dai consiglieri comunali. Cambiamo ancora pagina. I sindaci dei comuni soci di Cirsu annunciano di impugnare il fallimento del Consorzio. Oggi l'incontro con il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, Daniela Braccani. Minacciano battaglia i sindaci dei comuni soci di Cirsu, il Consorzio intercomunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani in fallimento secondo quanto decretato dal giudice fallimentare del Tribunale di Teramo. Si rischia il blackout come in campagna, sentenziano alcuni dei sindaci dei comuni interessati, Bellante, Morrodoro, Notaresco, Lusciano, Giulianova e Roseto, in occasione dell'incontro a porte chiuse con il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, convocato oggi a Palazzo Silone. Siamo pronti ad impugnare la sentenza di fallimento davanti alla Corte d'Appello dell'Aquila, tuonano gli amministratori locali favorevoli alla gestione d'emergenza del pubblico servizio, che non può assolutamente essere interrotto, altrimenti il rischio è quello di conferire la spazzatura direttamente nelle strade oppure di tornare al turismo dei rifiuti conferiti fuori Regione. Noi come Comuni impugneremo l'atto di fallimento, abbiamo dato mandato, stiamo dando mandato a un legale di costituirsi per impugnare autonomamente come Comuni l'atto di fallimento, l'abbiamo chiesto anche al Presidente della provincia, lo chiederemo anche al Presidente della Regione per la valenza che ha il polo del Cirzu, che nel piano regionale dei rifiuti rappresenta il 50% della capienza ed è l'unica discarica pubblica. Un altro argomento da trattare in Regione è quello sulla costituzione di un tavolo tecnico per esaminare gli aspetti riguardanti le autorizzazioni in capo a Cirzu, in particolare quella relativa al nuovo invaso quasi pronto da 5.000 metri cubi, un argomento questo che potrebbe riaprire il dibattito sul Consorzio Unico Provinciale. Siamo fiduciosi nella richiesta avanzata ai curatori fallimentari di continuare nella gestione provvisoria, cioè il contratto in estero che si continui a svolgere il servizio perché è un'interruzione di pubblico servizio, di valenza pubblica, provinciale ma anche sovra-provinciale perché si tratta di una struttura di piano regionale dei rifiuti, quindi l'interruzione sarebbe una cosa fuori dalla norma. Parliamo del Parco Area Marina del Cerrano perché è finita l'era d'Orazio, la presidenza dell'area protetta della Torre del Cerrano, c'è un nuovo vertice, l'Assemblea del Consorzio ha eletto infatti il CDA e il nuovo presidente Alfredo Primante. Dopo i ritardi e le polemiche è stato ufficializzato il cambio alla guida dell'area marina protetta a Torre del Cerrano. Benigno Dorazio lascia il posto all'agronomo Leone Cantarini, assieme al nuovo presidente nel corso dell'Assemblea del Consorzio sono stati nominati anche i nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione. Nerina Alonso, già assessora all'ambiente di Pineto e tra i primi promotori del parco, Fabiano Aretusi, laureato in scienze bancarie, operatore turistico, Pietro Palozzo, avvocato e Marina De Ascentis, biologa e insegnante, soddisfatti i sindaci di Pineto e Silvi, comuni sui quali insiste l'area marina protetta. Si cercherà di utilizzare al meglio questo importante e straordinario strumento che abbiamo del parco marino, sia e soprattutto per la tutela dell'ambiente, quindi la conservazione della natura e la valorizzazione della natura, ma anche e soprattutto come leva per promuovere un territorio straordinario che è il territorio del Cerrano, quindi Pineto, Silvi e perché no pian piano anche l'entroterra, quindi passando per Atri. E ci terrei a precisare che non sono importanti i nomi che sono stati fatti, ma è importante l'area marina protetta, l'area marina protetta che deve tornare al centro di un progetto grande che la zona merita, che il parco merita. Con Benigno Dorazio, che lei prima ha ringraziato, si è chiusa una relazione in maniera normale oppure è rimasta insomma qualche accredine per questo cambiamento al vertice? Io spero di no, Benigno è una persona estremamente intelligente e anche capace, aveva dei punti di vista diversi nell'ultima fase, ma sono sicuro che Benigno saprà dare tutto il suo supporto a testimonianza del lavoro che ha svolto in questi anni anche il nuovo CDA. E cambiamo ancora pagina perché dopo mesi di braccio di ferro e la pace fatta con il rimpasto di giunta, il consigliere di Abruzzo Civico Mario Olivieri si dice disposto a votare sì al rifinanziamento dell'istituzione sinfonica abruzzese con la garanzia però che si approvi anche una legge quadro sui finanziamenti culturali che dia risposta a tutte le altre istituzioni e associazioni culturali abruzzesi. Giorni decisivi in Consiglio regionale per la vicenda dell'istituzione sinfonica abruzzese. Sull'orlo della bancarotta senza direttore artistico dopo le dimissioni di Ettore Pellegrino costrette a chiudere in anticipo la stagione concertistica e soprattutto in attesa del finanziamento da 800 mila euro in due anni saltato finora con la ribellione del consigliere del Partito Democratico Luciano Mantucelli e dei due di Abruzzo Civico Mario Olivieri e Andrea Gerosolimo, quest'ultimo divenuto assessore con un programma che prevede anche una nuova legge quadro sui finanziamenti culturali. Fatto l'impasto Olivieri garantisce che la dissidenza dei ribelli rientrerà e il finanziamento sarà votato anche da Abruzzo Civico ma due condizioni un patto chiaro e messo nero su bianco per approvare al più presto la legge quadro e dare priorità all'approvazione della legge antiostruzionismo. Allora, noi non siamo mai stati come gruppo di Abruzzo Civico, non siamo mai stati contro l'ISA e nemmeno contro altre istituzioni, altre entità culturali. Assolutamente, anzi oggi ci siamo presi un impegno abbastanza importante con tutto il gruppo più monticelli del PD, stiamo rivedendo un attimino, vogliamo lavorare molto per una nuova legge di riforma sulle istituzioni culturali. Stiamo rivedendo il regolamento, c'è tutta una procedura per approdare in maniera anche se vogliamo, in maniera concordi, opposizione e maggioranza, un regolamento condiviso e naturalmente questo è un lavoro di retro consiglio che stiamo facendo per poter poi arrivare a un nuovo regolamento che ci permetterà sicuramente, naturalmente dopo che passerà anche alla mia commissione che presiede alla quinta, non è previsto per giovedì la quinta commissione anche perché c'è il consiglio, quindi probabilmente per la prossima settimana, giovedì della prossima ripasserà in quinta commissione e poi potrà essere tranquillamente portato in consiglio regionale per l'approvazione dell'ISA. E scade domani il termine per il rinnovo di una cinquantina di contratti di dipendenti precari assunti dal comune dell'Aquila dopo il sisma. La sensazione, per molti una vera e propria speranza, è che il rinnovo dei contratti di dipendenti precari del comune dell'Aquila assunti dopo il sisma arriverà con un via libera sul micotone. I rinnovi infatti dovranno avvenire entro il 30 settembre ed il tempo è ormai agli sgoccioli. Nonostante i pareri positivi giunti da Roma, le occupazioni dei lavoratori delle stanze del sindaco Cialente e gli inviti pressanti rivolti dal primo cittadino, la firma dei dirigenti sul provvedimento di proroga ancora non è arrivata. Quello che si è profilato sembra essere un vero e proprio braccio di ferro. Da una parte i lavoratori, rappresentanti della politica del sindacato che invocano a gran voce i rinnovi per oltre 50 persone, tra l'altro i dirigenti chiamati in causa che prima di apporre il proprio sigillo su un atto del genere, vogliono avere tutte le garanzie che questo non sia contro la legge. Oltre alle 15 maestre, denidi comunali attualmente chiusi, il rinnovo dovrebbe o potrebbe arrivare per impiegati nei settori più disparati, dalla ricostruzione pubblica a quella privata, dal suo appalla ragioneria fino all'anagrafe. Per tutti il termine massimo dei rinnovi fino a 36 mesi imposto dal Jobs Act è scaduto anche se la possibilità di deroga comunicata dal ministero agli uffici del comune dovrebbe aver chiarito le cose. La situazione però non sembra essere così lineare e dall'orizzonte potrebbe profilarsi un nuovo caldissimo scontro che rischia di incendiare l'autunno aquilano. L'accesso al credito e la fiscalità, queste le criticità delle imprese artigiane abruzzesi denunciate questa mattina da Confartigianato, l'associazione di categoria che chiede alla regione un impegno per la risoluzione di questi problemi. La situazione non è delle più rose per quanto riguarda il credito nei confronti delle imprese artigiane. Noi se le cediamo il governo regionale affinché possa dare una mano, possa riuscire a valorizzare le imprese artigiane tramite il credito. Un credito sempre più difficile insieme alle tassazioni che in questo momento la regione continua ad aumentare nei confronti di tutti. Le prospettive di credere e di dare una mano forte agli artigiani, al mondo imprenditoriale, tutto dalla costa all'interno, un interno spesso anche abbandonato, un interno che ha esigenze maggiori vista la gravità che ha avuto con il terremoto. Accesso al credito per le imprese artigiane abruzzesi, ci sono dei problemi? Voi vi rivolgete soprattutto alla regione Abruzzo? Sì, ci rivolgiamo alla regione che sono sette anni in cui abbiamo un dato fortemente negativo per quanto riguarda l'erogazione del credito alle imprese, quindi abbiamo la necessità di sbloccare i fondi della vecchia programmazione per destinarli subito alle politiche di accesso al credito e su questo ci sono già dei bandi aperti e quindi la regione può intervenire immediatamente e soprattutto così possiamo scongiurare di dover restituire alla Comunità Europea i fondi della vecchia programmazione, quindi sicuramente è un segnale importante che a parole è stato annunciato dalla regione, ma adesso non è più tempo delle parole, è tempo di arrivare ai fatti. Purtroppo c'è la crisi, c'è una fiscalità come abbiamo detto oggi con dei dati poco confortevoli per la nostra regione, quindi dobbiamo far sì che la regione torni ad essere una regione attraente, per fare questo sicuramente bisogna ridurre la pressione fiscale, dobbiamo anche qui scongiurare che nei prossimi mesi si potrebbe paventare un aumento della tassazione regionale, quindi nel modo più assoluto noi facciamo un appello al Governatore D'Alfonso affinché questo non accada. E noi torniamo alla politica per parlare del PD provinciale di Pescara che prosegue il suo tesseramento, ma guarda anche al futuro, ad un convegno che si terrà il primo ottobre per parlare dell'area vasta urbana di Pescara. Il tesseramento sta sicuramente andando bene con i nostri circoli che sono in piena attività e che stanno rinnovando le tessere già dell'anno scorso e quindi stanno chiudendo quello 2015, però il mio oggi vuole essere un appello a tutte le persone che amano la politica e che credono nella politica con la P maiuscola, che vogliono una buona politica, una politica migliore. Iscrivetevi al PD perché solo dall'interno si riesce a cambiare veramente la politica in Italia, solo così si potrà far prevalere il merito, la selezione adeguata della classe dirigente, le capacità, i temi. Quindi chiedo a tutti coloro che votano il PD ma che magari non si sono mai iscritti di iscriversi, di andare in uno dei nostri circoli e di dare il loro contributo per cambiare le cose, per renderle migliori. Tra le novità c'è anche un rinnovo del provinciale del PD a Pescara? Sì, ho mantenuto la vecchia segreteria, quella che è con me da ormai quasi due anni, però ho voluto fare un'aggiunta di forze nuove e di energie che avevano da mettere a disposizione del partito e quindi ho inserito un nuovo responsabile tesseramento che è Mirco Secone, un nuovo responsabile del coordinamento della segreteria che è Massimo Di Tonto, poi ci sono altri, Michela Madonna dei Giovani Democratici, Emanuele Pavone che resta agli enti locali, tutti giovani e tutte energie positive per questo partito. Nel segno del rinnovamento il primo ottobre ci sarà un'importante tavola rotonda, Pescara nell'area vasta. Sì, io ritengo che il PD debba assolutamente farsi carico di parlare dei temi e delle questioni che riguardano il territorio e una di queste iniziative è quella sull'area vasta urbana che faremo giovedì con l'eurodeputato Andrea Cozzolino, parleremo di come Pescara deve stare al centro non solo di una fusione di comuni ma di una strutturazione diversa che comprenda un'area vastissima che non comprende solo tre comuni ma forse anche di più. Il futuro dell'agricoltura, il reddito dell'impresa agricola, il nuovo programma di sviluppo rurale, questi temi al centro del convegno quale agricoltura domani che si è tenuto questa mattina presso la sala Piero Lupi del centro Eltron della Banca dell'Adriatico. Elisa Leuzzo. La finalità e l'obiettivo principale del convegno di oggi, cosa ci si aspetta? Ci si aspetta una discussione franca, Confagricoltura è ovviamente come altre organizzazioni attenta all'applicazione di questa nuova politica agricola comune, siamo nelle prime fasi, ricordiamo che è entrata in vigore il 1 gennaio 2015, luce ed ombre, quindi preoccupazioni nella fase applicativa di questo greening che sicuramente ci è servito moltissimo a Bruxelles per tutelare le risorse, per difendere le risorse. Oggi si comincia a fare già un primo bilancio, qualche considerazione sul futuro, noi come Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo siamo impegnati alla revisione della PAC, per cui per noi questi incontri sono importantissimi e con il Presidente Guidi è più di un'occasione, stiamo incominciando a mettere assieme le correzioni che poi saranno oggetto di quella mid-term review, di quella revisione di metà percorso che il Parlamento si appresta a fare nel 2017. Dal nome del convegno, qual è l'agricoltura domani? Qual è la risposta? Proseguire sulla strada che stiamo facendo, i risultati a livello macro sono buoni, l'Italia è arrivata quasi a 40 miliardi di euro di esportazioni, siamo diventati il primo paese esportatore negli Stati Uniti per il nostro vino, di cui tra l'altro con un protagonismo abruzzese importante, quindi la direzione è quella, rafforzarci ancora di più, dare una mano alle imprese per essere più forti, più competitive, per aggregarsi, perché la qualità da sola non basta, ma bisogna essere organizzati commercialmente. Questo è il nostro sforzo, è di andare in una direzione che vede al centro l'impresa e il lavoro, è un po' il tema dell'agricoltura che, ricordiamolo, nel nostro paese è oramai diventato il secondo comparto dell'economia nazionale, secondo dopo la meccanica e l'auto e superando il testo, quindi dobbiamo stare molto attenti, qui non si tratta di aspetti bucolici, ma si tratta di un importante asset dell'economia nazionale. Cresce il mercato del biologico a Pietranico, l'azienda Vitivinicola Chiusa Grande crea la vinificazione in vasche di pietra, una tecnica utilizzata duemila anni fa. Vinificare in vasche di pietra, non si tratta di un'innovazione, ma di una storia che ci riporta duemila anni fa e precisamente a Pietranico. Oggi, in tempo di biologico, l'azienda Vitivinicola Chiusa Grande presenta i suoi vini naturali. Come Chiusa Grande, quindi come azienda, facevamo già dei vini senza solfiti, però abbiamo voluto approfittare di questo progetto comunitario misura 1-2-4 per avere la possibilità di sviluppare ulteriormente, per esempio di acquisire un'attrezzatura per togliere l'ossigeno dal vino e quindi limitare l'ossidazione che è chiaramente il principale pericolo quando si parla di vini senza solfiti. Un mercato in forte espansione, quello del biologico, l'Abruzzo, si affaccia ancora timidamente nella nuova generazione, ma i segnali che arrivano sono buoni. Negli ultimi anni siamo passati ad una realtà nuova, una realtà che sicuramente ci mette in linea con la maggior parte delle regioni viticole italiane più importanti e poi c'è questa tendenza, quella della produzione sostenibile o biologica o ecocompatibile. Un discorso che parte da iniziative comunitarie e quindi la normativa prevede e prevederà ancora maggiormente nel prossimo piano di sviluppo rurale 2014-2020 iniziative specifiche per ridurre l'inquinamento e per un maggior rispetto ambientale e quindi tendenti a produzione più sostenibili. Infine sulla vinificazione del biologico alcune riflessioni da fare. Meno solfiti creano un vino più salubre, ma per i produttori si tratta di un rischio costante. E' questa la grande sfida per chi sceglie di produrre rispettando l'ambiente. E' necessario che il produttore attui tutte le tecniche per prevenire l'insonceria di attacchi fuggini all'interno dei vari appezzamenti di vigneto e poi successivamente prestare attenzione sicuramente anche in tutte le fasi di vinificazione. Chi invece adotta una vitinologia convenzionale sicuramente ha meno problemi, però diciamo questo non va a intaccare più che altro il discorso economico. Siamo allo sport, al calcio, parliamo del Pescara che si prepara alla difficile e delicata sfida di sabato all'Adriatico con la capolista Cagliari. Cagliari pieno, zeppo di ex Biancazzurri. Qualche problema in casa del Pescara. Ieri riposo precauzionale per Cocco e per Memushai, ma l'albanese salterà la gara con gli isolani per squalifica in via di guarigione Crescenzi, ancora fermo Sansovini. Le buone notizie riguardano la possibilità di convocazione per la prima volta in questa stagione del centrocampista Alessandro Bruno che ha scontato la squalifica. Sarà convocato per la prima volta anche il difensore argentino Ugo Campagnaro. Noi intanto andiamo ad ascoltare Gianluca Lapadula che nell'ultima gara di Vicenza ha rotto il ghiaccio segnando il primo gol con il Pescara. Tutto complimenti per il primo gol finalmente. Diciamo che in questa partita l'avevo cercato, però io ho sempre cercato il gol attraverso la prestazione, quindi ero comunque sereno e tranquillo grazie anche al Pescara, al gruppo, anche ai tifosi che nonostante tutto mi hanno sempre elogiato, nonostante non fosse arrivato il tap-in. Primo o poi sarebbe dovuto arrivare, ecco, e oggi è arrivato. Ho fatto uno spalla a spalla, è andato giù il difensore, ho fatto altri 40 metri, non voglio trovare scuse, però ero anche un po', avevo la vista un po' affuscata, ecco, se no non avrei avuto problemi a passarla. Il gol e ci sono state le proteste da parte del Vicenza, ce la racconti un po' questa azione, il contrasto col portiere? Diciamo che è una giocata che io ho sempre avuto nelle corde comunque di provare a prendere la palla anche quando esce il portiere, comunque palle difficili, ecco. Io non sono andato incontro al portiere, io sono andato verso la palla, questo posso assicurarlo. poi non ricordo bene la dinamica, però io, se non sbaglio, ho toccato la palla, ho toccato la palla e poi ho sentito il contatto. È stata anche una battaglia a livello fisico con questa difesa bianco-rossa? Certo, anzi, è stato anche molto stimolante, a me piace, ci provo sempre, non mollo mai e oggi, peccato per l'ultimo episodio alla fine, se no, nonostante una partita non sulle nostre corde, stavamo portando via tre punti. L'intervista all'attaccante del Pescara era di Enrico Rocchi, noi parliamo ancora di calcio, parliamo della Virtus Lanciano che prosegue la preparazione in vista della gara del prossimo turno dopo la sconfitta con il Modena si guarda avanti e sabato prossimo al Biondi arriverà una grande del campionato di Serie B, lo Spezia che sarà privo tra l'altro di Les Quevas che domani sarà operato per risolvere un problema cardiaco che lo terrà lontano dai campi di gioco per sei mesi. Nella Virtus è praticamente certa l'assenza del portiere Vincenzo Aridità, in forte dubbio anche l'attaccante Antonio Piccolo e due nelle prossime ore verranno sottoposti ad esami strumentali proprio per valutare l'entità dei rispettivi infortuni. Continua a lavorare a parte l'attaccante Marilungo. Lasciamo la Serie B, parliamo di Lega Pro, la risonanza magnetica, parliamo del Teramo. La risonanza magnetica ha escluso lesioni muscolari per il centrocampista Biancorosso Diego Cenciarelli che comunque salterà il recupero di domani sera ad Ancona. Il tecnico Vincenzo Vivarini può contare però sui rientri dei difensori Cairi e Perrotta che hanno scontato il turno di squalifica. Andrea Costantini. Non ci sono lesioni muscolari al flessore della gamba destra di Diego Cenciarelli e questo l'esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto ieri il centrocampista Terramano il cui problema dunque verrà gestito in questi giorni per permettere l'assorbimento di un edema ancora presente nel muscolo interessato. Oggi fisioterapia e domani lavoro in piscina per il giocatore Umbro che dunque salterà il recupero di Ancona e resta in dubbio per la gara di domenica prossima a Pontedera contro il Tutto Cuoio. L'allargamento della rosa voluto da Vivarini permetterà al tecnico Terramano. A proposito auguri per il patentino di primo livello conseguito ieri a Coverciano di sostituire Cenciarelli con un elemento di assoluto spessore come Calvano che è ben figurato nella porzione di ripresa disputata col Savona. In vista del match di domani al Del Conero recupero della prima giornata sarà necessario un mini turnover. Tornano a disposizione dopo la squalifica i difensori Cairi e Perrotta e Vivarini potrebbe optare per il trio difensivo titolare dello scorso anno per far rifietare Brugaletta e Altobello affaticati dopo la partita di sabato dove comunque hanno fatto bene. Altobello anzi è stato il match winner. In avanti scalpite il neo acquisto Le Noci ma almeno all'inizio Vivarini potrebbe ripartire dal duo brevilineo Petrella da Silva. Reduce dal successo di misura sull'Aquila l'Ancona ha avuto un buon inizio di stagione. Ci sono due ex Terramani tra i 12, il difensore Erradi e l'attaccante esterno Sassano. Nelle ultime sedute il tecnico Cornacchini derogando la difesa 4 ha provato il 3-5-2 modulo speculare a quello del Terramo. Mossa iniziale o da sviluppare nel corso della gara in caso di necessità. Rispetto all'11 di sabato sera potrebbe esserci una chance per lo scalpitante Amlili ex Forlì. Al vaglio di Cornacchini l'ipotesi di dare un riposo ai giovani Casiraghi e al match winner con l'Aquila Lombardi. Dirigerà l'incontro Livio Marinelli della sezione di Tivoli per i tifosi Terramani. Biglietti acquistabili in premedita fino alle 19 di oggi nei punti vendita Booking Show. E dal calcio al calcio a 5 per parlare dell'acqua e sapone Montesilvano che guarda con fiducia al prosieguo della stagione. Noi oggi andiamo a conoscere il vice del portiere titolare campione del mondo Stefano Mammarella. Si tratta di Germano Montefalcone. Da come tutte le nuove squadre ovviamente è difficile partire però penso che come abbiano visto tutti gli spettatori come penso anche voi è un'ottima squadra. Ovviamente come abbiamo detto è nuova e bisogna sempre conoscerci e arrivare negli obiettivi del mister e della nostra squadra. Nel campionato italiano nostro forse noi siamo veramente la squadra più giovane perché il più vecchio ha 34 anni, il Mimè che è un nuovo arrivo quindi penso che a livello di crescita sia italiano che non siamo veramente la squadra più giovane e penso che sia il futuro del calcio a 5. Di imparare non si smette mai, questo è poco ma sicuro ma mi sono promesso all'inizio dell'anno prima di rifermare con l'acqua e sapone di crearmi il mio spazio. Nonché sarà difficile, molto difficile perché davanti abbiamo il portiere più forte al mondo però ovviamente come ho detto non si smette mai di imparare e con Stefano si può solamente imparare. Spero di riuscirci a ritagliarmi il mio spazio nonché sarà dura però già come siamo partiti il mister mi sta dando fiducia negli allenamenti, mi sta dando fiducia negli amichevoli quindi spero che ci riuscirò. Con il calcio a 5 siamo giunti al termine della prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 19. Grazie e buon proseguimento di serata.